e mi ritrovo qua dopo cinque anni proprio rinda stanza mia addosto ancora e sembra che la maglia a sharp è una fotografia questa volta a scrivere non una semplice canzone ma una lettera intitolata proprio a così lettera alla mia paranza mi permetto di dire mia perché mi sento e su parte integrante sta paranza sono prima di fuori suo portavoce e tutti i compagni miei e tutti responsabili la mondiale la mondiale non è la mia non è nemmeno tu la mondiale sei chi è e di chi ne fa questo nome la priorità assoluta correva l'anno 2006 quando decidemmo di sposare questo progetto decisi a camminare sulle orme gloriose di chi ci ha preceduto e sapete come si dice chi ben comincia e a metà dell'opera alla prima festa già ne uscimmo vincitori come sempre mantenendo la leadership e non lasciando il posto che abbiamo sempre occupato Uprim anno dopo anno crescevamo sempre più trasformavamo l'ordinario in straordinario e quando arrivava quella rumenica l'obiettivo era sempre stesso convincere prima di vincere fin da subito ci siamo regalati emozioni forti spostandoci da paese in paese da barra a san giovanni da san giovanni a casavatore fino a nola la città a due gigli sonnate o mondiale di giglia dove oggi si gareggia il suono di esibizioni e noi noi ne abbiamo fatte tante a via san paolino rimbomba ancora un uomo nord quando accettavamo una sussuta nel 2008 poi c'è la stratosferica che solo ha pensato il ritmo ma viene ancora fritto in quella il carcere 2010 poi c'è via flora per tutti in coppia quartiere ma chi capisce giglia sape che quella rimarrà sempre via mondiale vabbè che dire come ricettore battaglia e cose belle della festa di giglia non solo nome si chiamano super team alla mondiale barra già proprio su barra non mi posso esprimere non vi posso parlare altrimenti altro che lettera ci vuole essere un libro senza fine come il vittorio nostro abbiamo camminato insieme per 14 anni fino a quando un male invisibile far mai un mondo una pandemia non a caso una pandemia mondiale da quel momento sono cambiati tutti i nostri programmi avendo sulle spalle famigli figli genitori amici da salvaguardare come si suol dire abbiamo tirato i remi in barca forzatamente ma abbiamo scelto di rimanere molto responsabili del nostro essere della nostra vita ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo messi subito a disposizione per aiutare il prossimo d'altronde un vero mondiale anche questo in questo periodo di pandemia pre post covid forse siamo stati più penalizzati abbiamo perso persone veramente a noi care un ricordo affettuoso la zika sparina e chi è che non lo conosceva va a mario mario sorrentino meglio noto come mariettiele rezip il nostro allazzatore delle varre un grande saluto affettuoso va al comitato organizzatore del calzolaio 20 23 i nostri maestri di festa uniti e mai divisi e dal loro rispettivo staff onorati di essere stati scelti da loro e lo stesso identico saluto lo voglio mandare all'associazione che ci dà l'onore di portare il loro giglio a barra i bravi 93 ed il suo staff con i quali già da tre anni stiamo vivendo momenti indimenticabili perché tra l'onore barra esiste un filo sottile che collega il tutto la passione la passione per giglio un rispetto l'educazione e poi e poi dulcis in fondo c'è stata vuoi il super team che se leggi su un dizionario oppure fai una domanda google sai qual è la risposta team insieme di persone che collaborano per lo stesso fine equip gruppo squadra il concetto non cambia un meraviglioso collettivo quali siamo noi che è un solo nome super team la mondiale e ora vogliamo giurare che torniamo a votare come prima come una volta come quando ci siamo lasciati perché fino là ve lo assicuro ci mette la firma non esistevano avversari c'è una frase che recita nel bene o nel male basta casa parla per noi non è da essere così e inizia da parlare sempre e solo bene il male lasciamma casa parla l'altro perché noi perché noi siamo nata cosa perché noi siamo nata gente perché noi siamo gente seri perché noi siamo coppa bar perché noi siamo nata no vi saluto con affetto e non dimenticate mai una cosa si dà valenza al più forte l'uomo diamo a tutti i ragazzi mamma mia come si cantano